Prima del video ti ricordo che è uscito il mio nuovissimo libro Per averlo ti basterà cliccare il link qua sotto in descrizione E potrai acquistarlo anche su Amazon oppure in tutte le librerie Non hai ancora il libro? Che aspetti? Manchi solo tu! Ciao a tutti i robloxsucatori qui a Bellofazza e come state? Spero tutto bene e allora come avrete visto dal titolo ragazzi Fatemi mangiare un attimo questo hamburger e anche questa pizza Perché ragazzi oggi ogni secondo diventeremo sempre più grassi Perché come potete vedere sono grasso al 72, al 74, al 75 E diventeremo sempre più grassi fino a quando diventeremo come questi qui Oh mio dio sono delle palle ragazzi sono delle palle Devo assolutamente diventare ciccio come loro Se non l'avete fatto mi raccomando lasciate un bel mi piace Perché è super importante per supportare il canale E mi raccomando iscrivetevi perché guardate Cioè ho la panza attaccata al mento Ma ci rendiamo conto? La panza attaccata al mento Buonissimo Che fame All you can eat di panini e di pizza Ok ragazzi per andare da quest'altra parte servono 20 vittorie Qua sicuramente ci saranno i panini più buoni del mondo Guardate già come sono grasso Oh mio dio La mia ciccia La mia panza sta coprendo addirittura la mia bocca Come farò a mangiare Come farò a mangiare Aiuto Allora vediamo Vinci 3 Ok mi da 3 vittorie se supero questo eh Vediamo un pochettino Oh cavolo Ma io non sono abbastanza grasso per andare di qua eh Meno 40 Ah no Mi toglie la ciccia Io non voglio No no voglio rimanere ciccio Ah voglio rimanere ciccio Voglio rimanere ciccio Allora 50% o 100 Eh se la metà di 200 e 150 Eh vabbè non lo so Meno 100 Più 20 O eh Meno il 30% di sconto Eh E meno 100 E più 30 No ragazzi non ho abbastanza ciccio Non ho abbastanza ciccio No Fantastico Oh mio dio ma sono tornato come prima Allora io direi di continuare a mangiare queste bellissime pizza E questi panini Vediamo vittorie Quanto mi cava laggiù? 400 Se la potremmo fare ma ancora no ragazzi Cioè guardate questi Quanto sono cicci Sono super cicci ragazzi Ma i pet dove si sbloccano? Oh guardate i VIP Hanno accesso a tutte le pizze Mega Non ci posso credere Allora voglio provare questo Vediamo Eh Meno 25 Poi direi Pi pi Meno 50 Più 20 ovviamente Meno 50 ovviamente Più 40 Meno 45 Più 50 Sì Una vittoria easy Top Abbiamo una vittoria No ma sono tornato normale Ma sono tornato normale Non è mica giusta questa cosa eh Dai 20 vittorie E andiamo a mangiare i panini di là Libero Abbiamo un giro libero Ti prego Ti prego Qualcosa di buono Ok più 250 pizze Tanta roba Sto diventando sempre più ciccio ragazzi eh Ok qua addirittura da 10 vittorie È un dropper ma non siamo abbastanza cicci ragazzi Addirittura ci sono i pet Non posso prenderli mi dispiace Oh mio dio ma questi sono più pancia Che persone ragazzi Sono immensi Prendiamo un po' di vittorie gratuite Perché tanto qua siamo abbastanza cicci Per prenderci la vittoria Bisogna andare sempre e solamente a sinistra Ah un'altra vittoria gratis A breve possiamo prenderci anche un pet Forse conviene Un regalo Abbiamo un regalo Vai Yo Più 250 grasso Sì Grasso di pollo Vediamo Animali ancora ovviamente non li abbiamo Ingranaggi Una vittoria La pizza e i peperoni Buona Un regalo pronto Per noi 500 grasso ragazzi Sto scomparendo Ho solamente gli occhi Oh mio dio Oh mio dio che pancia che ho messo su Ho messo su una pancia incredibile Dai che forse questa volta tre vittorie ce le danno Tre vittorie questa volta ce le danno Sono grasso 1141 eh Se nessuno è così grasso eh Ok Meno 140 15 Meno 100 Più 20 Io direi Meno il 30% Oh cavolaccio Meno 100 Più 30 Meno 450 Abbiamo tre vittorie easy Top Io direi di prendere Un pet ragazzi Dove si prendono i pet? Allora uova Vediamo Vai Uovo 1 Ti prego un pet ciccio Comune Il cane Il cane Il cane è il miglior amico dell'uomo Quindi farà mangiare tanto per la faccia Più 1 grasso Ok Mettiamolo Quindi Se mangio qualcosina mi da più 1 adesso Diventeremo sempre più grassi Non ci credo ragazzi Scribili Tip 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 Dop 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 Oh mio dio Scribili Dop Dop Mangiamo Sicuramente Alcuni Non conosceranno Scribili Dop 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 Ok proviamo ad andare qua Meno 25 Meno 50 Meno 100 Meno 150 Meno 200 Oh mio dio Meno 300 Non ci arrivo mica Non ha Non ha tutto questo cibo Non ha tutto questo Cioè non ha tutto questo grasso Come faccio Basta io mi scioppo il per 2 di grasso Sì Voglio diventare super ciccio Let's go Andiamo Forza Grazie per l'acquisto Prego Ok vai Meno 400 Siamo magrissimi Sì 3 vittorie Easy Ragazzi Top Ok ragazzi Mi stanno sparendo Completamente gli occhi Dobbiamo assolutamente Prendere queste 3 vittorie Per andare dall'altra parte Quindi forza Bella faccia Forza Sì Dimagrisci Dimagrisci Bella faccia Basta Mangia le gallette Mangia un po' di insalata E qua non ho abbastanza grasso però Ne serve 400 Prendiamoci un regalo Va Sì Mille grasso Mamma mia Sono enorme ragazzi Sono enorme Top Sì Hai vinto 3 Ok direi di andare No ce ne vogliono 20 Ma me ne sono accorto adesso Uffa La muffa Allora Vediamo qua Invece non ci sono mai andato Quanti ce ne vogliono Sì Vabbè ragazzi Bisogna essere super ciccio Per andare là Ho già visto Ok Abbiamo 20 vittorie Abbiamo sbloccato il nuovo mondo Entriamo Che bello Per andare a quell'altro 100 vittorie Ragazzi eh Ok Allora Vediamo un pochettino Ma dov'è il mio cibo? Il mio cibo? Scusate Il cibo solo là si prende? Allora 4 vittorie per andare là Guardate la scala Alcobaleno ragazzi Guardate lì che bello Sì vabbè Meno 500 Meno 700 Ma bisogna essere super cicci C'ho qualche regalo? Ah Fra 40 secondi Sì eh Oh mio dio ragazzi Dobbiamo muoverci Devo diventare il più grasso Di tutto Roblox Regalino 15 vittorie gratis Top Allora possiamo prenderci Quasi quasi un uovo ragazzi eh Io direi Che potremmo provare A fare questo 4 vittorie Vediamo Meno 100 Oh cavolazzo Meno 200 Sto diventando sempre più magro Meno 300 Aia Non ce la faccio Sì vabbè Come faccio? Meno 1000 ce la Ma come fa una persona A dimagrire così tanto? Non ci sono più gli occhi a breve Non ho più gli occhi ragazzi Allora direi Che ci compriamo quest'uovo Dai qualcosa di buono Comune Fantastico Un uovo comune Animale Più 5 grasso Ok Almeno si da più 5 di grasso Guardate Si aumenta Aumenta Più grasso Più grasso Più grasso Ok proviamo a fare questo Sicuramente non se la farò eh Ok Eh vabbè Un pochettino più eh Allora Vediamo un po' Direi di comprarci un altro uovo Vai Ti prego Meglio 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 Comune Un altro Un altro Un altro uguale identico Vabbè Adesso prendiamo 11 grasso Al secondo Fantastico Stiamo diventando cicci ragazzi I miei occhi stanno sparendo Guardate Sono una palla Sono una palla da bowling Ok io proverei a fare la scala eh Proverei a fare la scala I regali ancora non possiamo prenderli Ok Una pizza Una pizza margarita Mi piace molto condita Proviamo a fare questo Ok Meno 25 Ok Meno 50 Meno 100 Dai 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 Meno 200 Dai che ci siamo Ci siamo raga Ci siamo Meno 400 Meno 500 E meno 600 3 vittorie basta C'è tutta sta fatica per 3 vittorie Cioè già non mi basta il grasso solo per fare questo Oh mamma mia Meno 350 Meno 150 Meno 300 Meno il 50% Sì vabbè andiamo direttamente meno 1000 Sì Ciao proprio eh Sì ragazzi a questa qui gli è sparita la testa dentro la pancia E vabbè anche a me eh a breve Cioè per fare questo ci vuole tutto il grasso del mondo Cioè il mio non basta Guardate che roba Eh vabbè Ciao proprio eh Mamma mia grassi 2000 ragazzi Voglio provare a fare questo dai Ce la facciamo abbiamo 2000 Sì non ce la facciamo nemmeno Ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Siamo diventati super cicci Per fortuna ancora agli occhi Dabbè la faccia è tutto E ci vediamo presto Che palla che è questo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.